I furti lungo il litorale cilentano costituiscono una piaga di questo territorio che va avanti da tempo. Avvengono spesso ai danni di turisti che ignari del rischio di sostare con l'auto in una particolare zona si ritrovano in situazioni poco piacevoli. In quest'estate, fra Agropoli e Capaccio Pestumo, vicende del genere si sono ripetute spesso, soprattutto negli ultimi tempi, in zone dei due centri cilentani già protagonisti negli scorsi anni di questo tipo di furti, in primis nei pressi della Baia di Trentova ad Agropoli. Sulla questione di cui si sta molto discutendo però è intervenuto il capitano del comando dei carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello. Contattato dalla nostra redazione, il capitano Garello ha dichiarato che il trend dei furti sul litorale e costiero, in particolare ad Agropoli, è in calo rispetto allo scorso anno, quando sono pervenute al comando agropolese 22 denunce per furti rispetto alle 9 denunce che sono state esporte da cittadini e turisti quest'anno. Nonostante le discussioni a riguardo in città e la sempre maggiore richiesta di controlli arrivano alle rassicurazioni della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, dove i militari sono già al lavoro per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia.